Il discorso della difesa è vero, è una cosa che ne abbiamo parlato anche fra di noi e sicuramente è un aspetto da migliorare. Credo che sia limitativo parlare di difesa in sé perché quando non prende i gol non sono certo i difensori e basta che aiutano, ma è proprio la fase difensiva della squadra che secondo me ha perso un po' di intensità e distanze durante i 90 minuti. Diciamo che nei primi due anni riuscivamo a essere più equilibrati e soprattutto nel girone di qualificazione ma anche poi nella fase finale dell'Europeo si è vista la differenza. Abbiamo perso un po' quel filo lì e lavoriamo per trovarlo perché poi alla fine non prendere i gol è la cosa più importante perché poi è sempre difficile riuscire a fare due o tre gol per vincere.